Non dovremmo mai negare che in ognuno di noi c'è uno spirito nomade. Ed essere nomadi nella pesca ci fa stare a stretto contatto con la natura. Vivere momenti unici e abbracciare pesci straordinari. Perso la peste! Giorni e settimane là fuori in balia degli eventi. Andando incontro ad avventure uniche. Osare laddove non ti spingeresti mai. E lasciarsi travolgere dal mistero realizzando quelli che erano solamente dei sogni. Musica 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 Grazie per la visione Grazie per la visione